Gli eventi della settimana a cui non andrei... Buongiorno, Eribi! Buongiorno! Non ti mangiare il microfono. Lo so che mi guardavi per un altro motivo, per la sigla, perché diciamolo... Abbiamo finalmente ritrovato la vecchia sigla dell'inizio di questa rubrichetta. È vero, sì. Che secondo me è più o meno 2019. Non c'era ancora il Covid. Sì, più o meno sì, forse anche prima. Comunque volevo dare un consiglio ad Adriana. Eh? Guarda fuori dalla finestra. Ma credo sia già in macchia. Perché di base non è prevedibile. Cioè, sembra che stia... Che bellissimo, vai, oggi c'è il sole, dopo un secondo, scroscione. E via. E infatti ha ringraziato dicendo... Grazie, che meteo matto. Così scrive Adriana. Possiamo dire tutti. Uno, sette, otto, cinque, tre, cinque, cinque, cinque... Che due mesi, Matti. Ah beh, sì. Perché tra aprile e maggio, yuppi yuppi du, mi viene da dire. Per fortuna sta per arrivare il mese più bello dell'anno. E quindi... Giugno? Giugno. Giugno sicuramente regala sempre delle grandissime soddisfazioni. So che me ne pentirò. Perché è il mese più bello dell'anno? Perché è il mese del mio compleanno. Ah, ecco, semplicemente per quello. Ok, no, no, va bene. Ma poi nelle prossime settimane vi ti dirò sul mio compleanno. Perché c'è una nuova angoscia. Cioè, che angosciai? Eh, io ho 40 anni. Ok. Cioè, spaccati. Esattamente come Cristal Radio. Non è vero perché io ne faccio 41. E questo fatto di diventare 41enne mi sta mandando in sbattimento al pari del 19. Solo il 19. Quando ho fatto 19 anni non ho voluto festeggiare il compleanno perché era in sbattimento e il lutto per via che i 18 se ne erano andati. E quest'anno sto vivendo la stessa identica cosa. E lo stai bene, lo sai. Alla fine è stato molto bello. Lo dico per tutti quelli che ancora non ci sono arrivati. Fare 40 anni è molto bello. Ah, sì, sì. Molto bello, infatti. Quindi adesso staremo in, come si dice, in ansia fino ai 50. Io però te l'ho già detta questa cosa perché questa cosa me l'avevi anticipata qualche giorno fa. Ma ci sono i 45 prima. Ma non me ne frega niente. Ah, vabbè, ok. Non mi piacciono le cose tue. Comunque no, io stessa cosa quando ho fatto 23 e 27. Erano due anni che mi hanno fatto fastidio. 27 perché c'era la maledizione, avevano tutti paura di morire. Non sono una rock star, quindi non pensavo di… Io sì, io sì, avevo paurissima anche perché essendo coetata di Amy Winehouse… Ah, giusto se tu sei con l'interno su adesso, effettivamente. Cioè, lei è morta che, se non sbaglio, aveva appena compiuto 27 anni. Sì, sì, sì. Io per fortuna l'avevo già superato. Ok. Devo dire che su questa storia, effettivamente, io sui 33 anni qualche problema ce l'ho avuto. La mia santità, se vado a sentire. Amen, Fabio, amen. Ma andiamo avanti, dai, chi se ne frega, cioè, via. Allora, come tutte le stagioni belle, quindi la primavera porta con sé un carico di eventi, a mio giudizio, inutili. Quindi, va bene così. Benissimo. Ah, il primo che vi volevo raccontare è un evento che non c'entra niente con Milano e neanche con la Lombardia. Quindi mi chiedo, ma perché lo stiamo facendo? Giusto, perché lo stiamo per dire? Lo stiamo per dire perché in Piazza Castello, quindi no, è un evento che viene fatto a Milano, ma non c'entra niente con la Lombardia. In Piazza Castello, da oggi fino al 26 maggio, che credo sia domenica, c'è il Festival della Carbonara e Cucine Romane. Ciao ragazzi, io vado. Ciao Fabio, lo sapevo che a te questa cosa avrebbe destato sicuramente molta, molta curiosità. Elisa, metti sulla sigla che devo andare. Vacci, vacci. Da oggi fino al 26 maggio. Sono già là, a pranzo. A pranzo, bravissimo, bravissimo. Sono chiuso. Boh, può essere. Non lo so perché sai che io eravi su altasia. No, però essendo in Piazza Castello, secondo me dai pranzi sono già aperto. Secondo evento, BAM Circus. Che cos'è il BAM? La Biblioteca degli Alveri Milano. Bravissimo. C'è il Festival delle Meraviglie al Parco, da oggi al 26 maggio, tre giorni di Festival di Circo. Sapete che il Circo è una delle cose che io zero, proprio. Ma qualsiasi, anche senza animali. Assolutamente sì. Il Circo per me è senza animali. Ma di base no. È un no. Grande, grande, grande. Come tutto ciò che riguarda Natale. Più o meno. Cosa c'entra il Circo con Natale? Eh, sono gli stessi argomenti più o meno. Non è vero. Guarda che non sono gli elfi di Babbo Natale quelli lì. Sono i giocoglieri o gli acrobati, una cosa diversa. Mi spiace dare questa informazione, ma come tutti voi saprete, io abito in zona San Siro. Quindi per il momento sta arrivando la stagione caldissima, che non è quella delle partite, ma è quella dei concerti. E se il concerto è bello, tutto va bene. Ma se il concerto ti fa schifo, sono rogne. Quindi fammi capire, dovremmo fare una commissione comunale, dove dicono Eribi, viene a cantare Giovanotti. Va bene. Va bene. Eribi, viene a cantare Mahmood. Ultimo, ultimo. Volevo andare a scalare, volevo andare. Mahmood, boh, dipende quanti ne fa. Ah, vedi, certo, dipende, ok. Viene ultimo con Ermalmeta e Fabrizio Moro. Allora, salvo Ermalmeta, grazie al concertone del primo maggio, ma sono un no gli altri due, ma proprio un no categorico, pari a Babbo Natale. Una bella reunion, Fabrizio Moro e Ultimo, insieme. Non ce la faccio. Ok, quindi loro non potrebbero fare il concerto a San Siro perché tu dici di no. No, ma questo è il mio gusto. E no, ma sto pensando come fare. Io non ci andrei e molto probabilmente quella sera mi chiudo in casa con i tappi. Benissimo. Perché purtroppo, per chi vive a San Siro, il problema è questo. Cioè, non è il disagio, oddio, il disagio che c'è dietro alla gente che va al concerto c'è. È di più quello che c'è quando… Sicuramente è di più quando ci sono le partite. Eh, va bene. Però il fatto è che tu senti quel concerto. Anche se lo vuoi. Se il concerto, scusate, è il concerto del volo, è impegnativo. C'è in lista il concerto del volo? Non lo so. Comunque, iniziamo con un bel botto, si dice, a casa mia. Sì. 29, 30 maggio in Metallica. Beh, dai. All'ipodromo, quindi c'è la fortuna che forse non si senta. Dipende come gira il vento. Dipende che giorni sono. Se gira il vento, gira il vento grosso. Quindi questo evento è sicuramente un evento dove io non andrò. Oltre al Festival della Carbonara, al NH, o quello in Tortona, c'è l'aperitivo Festival. Guarda, pensa che mi ero aperto la notizia nel caso non l'avessi data tu, la leggevo. Esatto, c'è l'aperitivo Festival, vai lì, ti fanno la nuova mixology e cose varie, dal 24 al 26 maggio. E ho scoperto essere una seconda edizione, quindi vuol dire che c'è stata anche la prima edizione l'anno scorso. Sicuramente l'avrò detta. Sì, facile, facile. Cos'è la nuova mixology? Ehi, come si fanno i cocktail. Ah, non sono sempre quelli. Eh no, creano nuovi cocktail. Ah, ok, no, no, pensavo alla metodologia. No, no, creano dei nuovi. No, vabbè, mixology è la ricetta. L'ingrediente, la ricetta, la ricetta. Non ti chiamano la ricetta? Si chiama mixology perché loro sono fighe, sono barman, non sono baristi. Ah, ok. Ok. Ti piacciono i comici? Dipende. È un po' come i concetti di ultimo, dipende. Ah, ti piace l'open mic? Dipende. Vabbè, comunque, allora, un peccato perché sennò potresti andare alla santeria domenica dalle 21, c'è, credo, la nuova trasmissione di Frank Matano, che per me lui era un dio. Poi ho iniziato a scrivere su Instagram e non mi ho mai risposto, neanche visualizzato, per me è caduto in basso. Cioè, perché, scusa, è così in basso perché non risponde a te su Instagram. Sì, ma tra l'altro... Che sarà l'unica che gli scrive, soprattutto, no? Tra l'altro non è che io avevo scritto niente di che, io avevo semplicemente detto che l'avevo sognato. Come gli hai scritto che l'avevi sognato? Sì, perché secondo me lui è anche un bel ragazzo, ma non era successo assolutamente niente. Volevo semplicemente dirgli la gag del sogno che avevo fatto. Niente, non mi ha neanche letto, per me è break list. Ma comunque... Anche se so che nei momenti di sconforto riguarda le sue storie di quel suo viaggio a Londra. Sì, sì, sul viaggio a Londra del 2019 è veramente qualcosa di meraviglioso. Vi consiglio di andare a vedere sul profilo di Frank Matano le storie in evidenza, si chiamano London, se non erro, 2019. Comunque, Frank Matano presenta Oversympathy. Quindi, pensi di far ridere? Così si chiama la trasmissione. La risposta è chiaramente no e non vengo al tuo evento. Bene. Comunque il primo giugno c'è anche Bruce Springsteen allo Stato di San Siro, penso. Niente, non ho voluto mettere quello. Anche il 3 giugno c'è Bruce Springsteen. Potrebbe essere quasi interessante. Invece volevo concludere... No, no, non voglio concludere, ce n'ho ancora due. Questa in realtà mi è curiosita. È che è un po' lontano, non è in Menano, ma è in San Martino Siccomario. Ce l'ho voluto mettere lo stesso. Perché alla veridea, domenica dalle 10 incontriamo gli alpaca. Alla veridea? Alla veridea. Tu ci vedi gli alpaca che vanno alla veridea. Salve signora, vorrei comprare questa piantina. E intanto c'è l'alpaca. Te la vende l'alpaca, la piantina, no? No, però l'alpaca sarà lì. Ti immagino tutti i bambini. Che bruca le piantine. Tra l'altro, posso dire una roba, gli alpaca sono brutti, eh? Ma non è vero, dai. Ma sì, sono bruttini i poverini. Cioè, non è che sono i cammelli dromedari. Ah, quelli sono bellissimi, ah, guarda. Ma secondo me i dromedari sono bellissimi. Sì, si dice sempre, ma sei bella come un dromedario. Ma sono più belli come animali rispetto all'alpaca. Ma perché è bello? Ma l'alpaca gli mettono sempre quelle cose che sembrano un po' peruviani. Ma non è vero, ancora non lo mette quello che canta in Piazza del Duomo. È vero, c'è quello cieco, eh, in Piazza del Duomo che ha il finto alpaca. Sì, ma infatti, ma quello, non è che quando vanno in giro gli alpaca li vestono da peruviani, cioè, vabbè. Ma stai a pensare. Ma tra l'altro, perché gli alpaca? Perché credo riminano da quella zona, giù di lì, eh, cioè, così, eh. Vabbè, comunque. Concludo con un evento di quelli belli su Facebook. Oh. Allora, la scuola di biodanza lombarda, che si trova in via Savona a 134, fa un seminario che ci si deve scrivere, che sarà il 25, cioè domani alle 14, il 26, alle 18, sull'affettività. E l'immagine era molto bella, perché era un circolo di persone tutte abbracciate. E io ho pensato che Fabio vorrebbe andarti. Sicuramente, guarda. Io no, perché odio le persone che si abbracciano e odio l'affettività in generale. Bene, nella tua vita deve essere molto stimolante per far essere tra i complimenti, comunque. Dove in via Savona? 1, 3, 4. 134, in fondo. 134 in fondo, è quasi un jabbelino. Esatto. Quasi a Dark Orient. Vabbè, ho concluso. Bene, grazie per i tuoi... Beh, dai, io puoi andare al Festival della Matriciana. Ma poi sono già lì. Carbonare, non è la Carbonare? Sì, Carbonare. Carbonare e cucine romane. Quindi ci saranno anche la Matriciana, sicuramente. Quindi ci saranno, sapete che cosa anche? La CPP. I supplì. I supplì. Ma i supplì non sono napoletani. No, no. I supplì sono romani. I supplì sono nel cuoppo? No, quello è il napoletano. Ah, ok. Sai cosa si mangia a Napolo? O per un musso. O per un musso. Ma te lo annunziate, te lo annunziate. No, no, è tutta Napoli romana. Comunque, Nello ha scritto un messaggio che faccio... Oggi, Nello, mi spiace, faccio fatica anch'io a capire la tua battuta. Dai, traduco. Gli Alpaca cantavano Dancing Queen. Sì, insieme a Yabba. E perché gli Alpaca, Yabba... E perché è una sonanza. Nello, se la devi spiegare vuol dire che non ha funzionato. Oggi Nello, ai 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 ai, non mi ha funzionato la battuta, signora Longa. No, si diceva. No, no, Alpitor. Non Alpitor. Va bene, va bene, va bene. Va bene, comunque, invece, è meglio di qualsiasi tour operator voi vogliate. I consigli, appunto, di Airy Bee che vi da indicazioni per scamparvi gli eventi. O forse, invece, per andare agli eventi. No, no, io vi invito in realtà ad andare. Tra parentesi, ieri mi è arrivato un messaggio di Harry B Che diceva a un certo punto Evento interessante c'andrei Infatti non l'ho nominato Cioè il festival ciclomestruale Secondo me è molto interessante Perché è un evento divulgativo Mi ha stupito Ha detto questo evento c'andrei È molto interessante E ho pensato di averti risposto È la prima volta che mi mando un messaggio del genere Comunque, non è che devi per forza sminuirmi Perché dentro sono una bionda Sì, perché tu sei una bionda dentro Dimentichiamo questa cosa Dimentichiamo questa cosa Chi la vede sappia Oh, mi prendono le mani Mi diamo schiaffo Secondo mia madre sono soldi e sono sberle Eh, appunto, spero che non siano soldi Sono sicuramente sberle Ottimo, va bene Comunque, lasciamola ai suoi deliri Così la mattinata può iniziare anche per Harry B Come è già iniziata con tutti voi E continua qui su Cristal Radio Con Good Morning Milano Con la musica appunto in diretta Qua alle 7.50 Grazie mille Harry B Ciao, ciao Ci sentiamo, ci vediamo venerdì prossimo Se volete rivedere, se vi siete persi qualcosa degli appuntamenti A cui andare o non andare di Harry B Appunto lo trovate su goodmorning.milano.it Il nostro sito Di cui trovate anche tutti i vari podcast di Spotify Apple Podcast E ho scoperto anche che Google Podcast a giugno chiude Ah, ciao Sì, nel senso che basta A giugno ci saluta Google Podcast Non a noi, ma in generale nel mondo Vabbè, ogni tanto Google lo fa Apre, fa cose, tutti a correre Ve lo ricordate? Buzz Wave Abbiamo corso per avere qualsiasi invito Ma vi ricordate Maps? No, c'è ancora Maps Non è che non c'è più il pulsante Non c'è più il pulsante Nell'home page Perché la Commissione Europea Ha fatto una legge Per cui poi dopo È una legge che ha ragione di fare Ma che poi viene applicata Ovviamente da Google In maniera volutamente Un po' forzata Così che noi altri Diciamo Oddio Google Vi prego rimettete Maps E la vera Strategie Strategie di marketing Grazie mille Ribi Andiamo con la musica Willy Peyote Ed è qui Alle 7.51 minuti Insieme a Shaggy Con Don Joe